Buonasera, ben ritrovati in questo secondo spazio, assolutamente buonasera buonasera a voi, grazie di essere qui con noi, a questo punto lancierei se sei d'accordo Fabio l'RVM di presentazione di questa seconda parte Grazie a tutti Oh by golly I have a lovely jolly Christmas this year Insomma, questo secondo, questo RVM che abbiamo lanciato a Sessore era un RVM dell'anno scorso perché abbiamo visto che nelle strade del centro di Bari state iniziando ad allestire tutto, ma quali sono le iniziative che avete messo in campo? Beh, insomma, quello che abbiamo visto è quello che siamo stati, quello che abbiamo raccontato in questi anni e quest'anno vogliamo raccontare ancora, quindi sicuramente illuminare le vie principali dello shopping non solo nel centro ma anche nelle periferie, con i municipi ci siamo organizzati su questo abbiamo lasciato a loro dei fondi per poter appunto allestire le strade più attrattive quindi anche di supporto ai commercianti che in questo momento storico, tra l'altro con il Natale vedono un po' schizzare il loro fatturato senza aumentarlo più di tanto però sicuramente un momento economico importante e poi eventi, eventi che fanno sì che le famiglie, i bambini ma anche gli adulti possano passeggiando in città godersi il mood natalizio, il mood della tranquillità voglio dire della pace, però in qualche modo di quella spensieratezza della routine quotidiana per fare, io sono un po' romantica sul Natale, fare una carezza al cuore perché il Natale è poi sempre un momento di nostalgia per tante persone perché si pensa a chi non c'è più, però allo stesso modo è un modo per stare insieme ecco vogliamo farli stare insieme nelle piazze Fabio Entriamo un po' nel vivo, qualcosa di particolare, qualche evento in particolare? Beh l'accensione dell'albero ormai è un evento storico Ecco il 6 dicembre aspettiamo insomma San Nicola per poi accendere l'albero e illuminare l'albero e poi il villaggio di Babbo Natale che vedrà tante attrazioni per i bambini quindi anche laboratori didattici nel periodo scolastico festivo i bambini potranno sia incontrare Babbo Natale ma proprio anche degustare un po' il Babbo Natale quindi ci sarà la possibilità di preparare insieme dei dolci, ci sarà la possibilità di colorare insieme questi sono gli eventi che prendono tutta la comunità, tutte le fasce d'età delle famiglie in più l'assessorato alla cultura sta mettendo ad hoc degli eventi culturali e spettacolari quindi il teatro Piccini avrà uno spettacolo dal 6 all'8 di dicembre dedicato a Babbo Natale così nei vari teatri ma anche nelle parrocchie, nelle varie periferie grazie ripeto ai municipi ci saranno tanti altri eventi ripeto per stare insieme perché alla fine gli eventi particolari sono quelli e poi ci sarà Capodanno dell'assessore Ines Pierucci come al solito che chiuderà l'anno in piazza tutti insieme non mi chiedete i nomi perché insomma non li posso dire che nomi ci saranno? Andrea tu devi fare una domanda all'assessore lo sapevo Andrea che tu eri, sei sempre un po' quello insomma il fuorionda sei tu ho un paio di domande anche serie vi stupirò perché spesso il polso del pubblico dei nostri social è ok bellissimo il centro di Bari durante il Natale ma ci sono anche le periferie e anche quest'anno per le periferie c'è qualcosa di dedicato allora abbiamo visto anche Santo Spirito scorrere beh ci sono sia le luminarie ripeto ma faremo delle notti bianche in collaborazione con le associazioni di strada soprattutto dei commercianti che metteremo su degli spettacoli ovvero degli eventi gratuiti ovviamente per animare queste piazze e queste vie su tutti i cinque municipi solitamente il municipio di Carrassi è molto attivo così come Santo Spirito c'è davvero alla base la cittadinanza attiva ecco perché noi possiamo investire tanto però poi abbiamo bisogno di chi realmente conosce il tessuto anche del territorio a Santo Spirito c'è ci sono un paio di associazioni che collaborano spesso con l'amministrazione per rendere appunto le piazze più vivibili e più attive tutti i vari fan di Instagram e social media vanno sempre alla ricerca dei mercatini di Natale che sono una grande occasione per fare foto ma anche ottimi acquisti a Bari so dal 6 dicembre dal 6 dicembre noi diamo proprio lo start al Natale al 6 dicembre quindi dal 6 dicembre ci saranno anche i mercatini dell'artigianato quest'anno poi siamo stati un po' rigidi perché quando si parla di mercatini dell'artigianato è un po' borderline poi ci sono gli artigiani puri che dicono questo è un prodotto artigianale e ci sono stati negli anni alcuni che hanno spacciato insomma l'artigianato per quello che poi in realtà non è quindi quest'anno proprio ieri si è conclusa una commissione dove hanno partecipato più di 50 espositori 30 saranno le casette e la commissione formata da associazioni di categorie proprio dell'artigianato ConfCommercio e CNA che ringrazio hanno selezionato loro davvero il prodotto quindi avremo 30 artigiani veri sulla muraglia che venderanno l'opera del proprio ingegno perché parliamo di artigiani questo è ciò che arriverà a Bari adesso dovete prendere appunti perché con questa clip vediamo tutti i mercatini in Puglia VAMOS! però è stata insomma una clip breve perché sei sempre stato avido? perché questi sono i tempi dei social c'è ma move vabbè tu sei troppo rompiscatole Assessore mi scusi se l'ho maltratto ma è sempre così lui fa sempre il precisino cosa avete pensato soprattutto sulle luminare a Bari quest'anno in confronto all'anno scorso ci saranno delle novità anche negli allestimenti? sì vabbè lo possiamo dire sì oltre le classiche nostre luminari appunto in via Sparano in via Giro e in via Manzoni quindi le calate come si vuol dire abbiamo avuto una fortissima collaborazione dai privati quindi ci saranno scritte ci saranno i love you Bari ci saranno i babbo natali gigante i trenini illuminati quindi ecco parlando di social sarà possibile fare fotografie molto instagrabili si dice così? ok tu sei l'esperto e quindi invitiamo davvero tutti a fotografarsi a Bari quindi taggare anche Bari sto facendo promozione è proprio Instagram grandissima una vera influenza Assessore lei è l'assessore sviluppo economico per questo chi ti vede sì ma tra l'altro abbiamo dato possibilità anche di pubblicizzarsi perché è giusto che un commerciante un imprenditore investe in città illuminando e rendendo bella la città debba insomma in qualche modo firmare quindi proprio una collaborazione stretta quest'anno ne abbiamo avuti tanti non solo nel centro cittadino ma anche in periferia vedremo queste installazioni luminose che daranno appunto sia il senso del Natale però daranno la possibilità a tutti di avere una foto ricorda con una illuminaria simpatica Fabio la partecipazione è sempre il modo per aggregare per fare le cose insieme quindi è già un primo passo verso iniziative di successo beh io non decido mai da sola questa è una cosa che un po' sanno tutti e quando decido mi confronto sempre con chi poi in realtà deve vivere appunto la città è più semplice prendere una decisione dall'altro si fa così invece il mio percorso di partecipazione, di collaborazione ecco perché ripeto possiamo avere delle idee vincenti però da soli non si va mai da nessuna parte e quindi per gli imprenditori quest'anno hanno risposto più che mai rispetto all'anno scorso siamo pari al 30% in più e voglio perché vogliono alcuni mi hanno detto vogliamo ringraziare questa amministrazione diciamo uscente per tutto quello che loro dicono abbiamo fatto per loro però in realtà l'abbiamo fatto abbiamo lavorato tutti con non voglio dire con grande cuore perché poi sarei troppo natalizia ecco però con senso di responsabilità per il bene comune e questo è stato il risultato Beh insomma ora stavamo a breve insomma parleremo del Black Friday di questi giorni insomma noi abbiamo fatto anche un articolo di Telebari parlando insomma di quello che è stato settimana scorsa e quello che sarà insomma anche in questo weekend quali sono anche le iniziative per il Black Friday? Beh il Black Friday io ricordo che quando mi sono insediata dieci anni fa avevo i commercianti contro perché era una qualcosa che avevamo importato dall'altra parte del mondo è un'iniziativa puramente americana poi un po' i social adesso il Black Friday è diventato di uso comune lo fanno tutti alcuni mi chiamano ma io lo posso fare ma non è che sono multato quindi c'è anche una sorta di indicazioni all'uso del Black Friday è sicuramente un'opportunità per fare shopping anche se in qualche modo penalizza poi il commerciante perché appunto andiamo incontro al Natale e molti si stanno già attrezzando a fare i regali in questi giorni però insomma fino ad oggi non abbiamo avuto si dice che da domani ci sarà freddo assolutamente da oggi fino ad oggi non abbiamo avuto giornate freddissime per questo anche io faccio un ragionamento logico scusami se ti tolgo la parola però mi approfitto essendo un'imprenditrice quindi comprendo bene che la merce che vediamo all'interno dei negozi è già stata pagata perché 30, 60, 90 giorni fai l'ordine diciamo a maggio e ti arriva la fattura luglio, agosto 30, 60, 90 giorni di fattura di ritenute bancarie sicuramente i commercianti hanno già pagato quella merce quindi anche al 30% in meno con tanti sacrifici va bene cioè l'importante è fare incasso quindi l'invito non è solo acquistare durante il Black Friday ma farlo almeno fino a Natale per far respirare un po' tutti e ricordiamo e lo ricordo a me stessa il valore che io personalmente ho dato ma l'ha data l'intera giunta ai negozi di vicinato perché sono i punti di riferimento della città assolutamente a questo punto lancerei se siete accordi un RVM ironico eh occhio ironia social sul Black Friday come ti sei conciato eh questo questo c'era un'offertona per il Black Friday calcolo l'ho pagato la metà e che ce fai? vuol dire che ce fai a parte che era un'occasione ma poi può sempre servire a qualcosa ma mo poi io saprei tutti i beni di prima necessità che ti sei comprato guarda c'è una cosa che guarda rosicherai tantissimo me la invicherai proprio guarda che è sto schifo? sto schifo è un guanto che tu lo metti e con una sola passata levi tutti i peli superflui dal manto del gatto tu non ce l'hai mai avuto il gatto? guarda che oggetto meraviglioso cos'è un microfono? un microfono professionale ma lo sai questo quanto costava fino alla settimana fa? 820 euro lo sai quanto l'ho pagato? 600 tu non hai mai cantato? 100 uno impara dai piuttosto ce lo andiamo a piastro caffè o no? no ma lo potevi di prima però che è? una settimana fa c'era offerta 100 cialde 10 euro diciamo è un RVM super super simpatico beh le colliche sono dei grandi content creator che ci permettono di affrontare questo tema al meglio assolutamente Fabio per quanto riguarda diciamo tutto quello che Black Friday non compro nulla no no Black Friday assolutamente lo compro negli altri giorni vorrei chiederti una curiosità per quanto riguarda Amazon Bari quando uscirà la prossima edizione? usciamo l'1 gennaio con una edizione completamente rinnovata un formato ancora più grande quindi più visibilità alle bellissime foto di Bari a proposito abbiamo uno speciale che è proprio quello delle foto dell'anno quindi le più belle foto della città e dei cittadini dei baresi e cambiamo la testata giochiamo sul nome Amazing e diventiamo Amabari e nasce il sito amabari.it e che ci sarà in copertina? non si dice ma io pensavo che ci fosse Andrea no lo possiamo dire c'è un altro Andrea ma è Andrea Rubino un imprenditore immobiliare che festeggia i 40 anni l'ha detto l'ha detto festeggia i 40 anni proprio quest'anno e quindi ci sembrava bello raccontare la sua storia Assessore parlando diciamo rimanendo sempre in ambito del commercio quali sono i progetti che il suo Assessorato su cui sta lavorando? beh ne abbiamo messi in campo tanti uno che ha avuto più successo tra l'altro premiato anche a Milano è quello del negozio un negozio non è solo un negozio quindi siamo stati premiati come miglior progetto di amministrazione locale per lo sviluppo economico appunto locale in città ripartirà un negozio non è solo un negozio io mi auguro brevissimo in più impresa prossima che riparte parte da lunedì quindi la possibilità di chi ha una nuova partita IVA quindi aprire una nuova completamente nuova attività commerciale sempre con un fondo perduto pari al 50% e Bari artigiana ecco questo mi ricollego ai mercatini perché è importante dare il valore agli artigiani perché alla fine la compravendita ecco non dico che la sanno fare tutti perché insomma bisogna avere anche scuola del commercio ricordatevi questa cosa che sto dicendo quindi diamo la possibilità agli artigiani veri di poter aprire ma abbiamo selezionato il centro storico della città quindi Barivecchia questo perché negli anni ci siamo anche accorti che Barivecchia sta perdendo un po' la sua identità tra i food e anche i vari B&B che ci sono sono tanti dico perde l'identità perché ultimamente c'è stata proprio una signora che ha 90 anni che ha sempre vissuto a Barivecchia da piccola purtroppo la famiglia o meglio i nipoti nuove generazioni un po' più smart ha detto nonna ci serve la casa che dobbiamo fare un B&B e questa signora diceva ma io dove vado quindi poi alla fine è rimasta lì però ci ha fatto pensare perché è vero il business però perdiamo quelli che sono i nostri punti i punti di riferimento che sono la famiglia ma è anche la signora davvero abbiamo fatto storia del profumo del ragù quando passeggiamo nelle vie storiche di Barivecchia o per me il profumo della varichina ecco anche per chi dice la puzza però ci accorgiamo che davvero poi si perde diventiamo tutti uguali mentre Bari ha bisogno di mantenere quella identità e Bari artigiani è un motivo per dire agli artigiani rimaniamo nel centro per mostrare quello che siamo capaci di fare assolutamente a questo punto lanciamo l'RVM insieme Bari artigiano 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 Sessore, parliamo di questo video, di quel progetto di Bari Artigiana. Beh sì, come avevo accennato, il video parla un po' da sé. Diamo qualcosa agli artigiani, ma al suo tempo agli artigiani, ma così come i commercianti con un negozio o nessun negozio, ripeto, in presa prossima, danno qualcosa alla città e alla comunità. Ci sono dei progetti che stanno andando in porto, molti li vediamo già sul sito di Bari.it, che è un cappello che racchiude tutte e tre le misure. Sul sito del comune ci sono tutte le info su come partecipare e aderire. Un'ultima domanda, Bruciapello, deve essere la mia. Un libro da mettere sotto l'albero, quale? Vabbè dai, non lo posso dire. Sono un po' di parte, ovviamente quelli della Gelso Rosso, che ha una grafica di elementi fondamentali. Scherzo, libri, sempre libri, sempre di cultura, però da buona madre, di famiglia, non posso dire che un figlio è più bello dell'altro. Libri sotto l'albero. Libri sotto l'albero. Cultura e know-how. A questo punto, come sempre, grazie a Fabio di aver co-condotto con noi questa puntata, grazie all'assessore Carla Pallone di essere stato qui con noi e a questo punto un'intervista nella terza parte a Gaetano De Caro, che è sempre stato ospite nei nostri studi, giusto? Lui sì, che ha il Puglia Factor. Dopo la pubblicità sarà qui.